Salve e benvenuti a tutti, in questo video troveremo alcuni esercizi svolti relativi alla classe di concorso A028 e mi avete chiesto insomma di partire dalla soluzione degli esercizi del concorso STEM e questa traccia è relativa alla prova del 6 agosto 2021 e bisogna rispondere alla seguente domanda sono assegnati un poliedro e un piano sappiamo che la proiezione ortoconale del poliedro sul piano assegnato è un triangolo quale delle seguenti affermazioni è vera? poi leggeremo le varie risposte allora sicuramente se noi abbiamo come proiezione ortoconale del poliedro su un piano un triangolo in realtà possiamo avere sicuramente sia la proiezione ortoconale di un parallelepipedo ad esempio proiettando questa faccia su un piano sicuramente viene fuori un triangolo però sicuramente possiamo avere ad esempio anche un tetraedro io non sono bravissimo con i disegni possiamo avere sicuramente anche un prisma quindi ok anche se non è proprio disegnato al meglio immaginate la proiezione ortoconale di questo prisma ad esempio di questa faccia triangolare del prisma su un piano e la proiezione sicuramente sarà un triangolo quindi le risposte corrette sono quelle che prevedono un solito di piramide oppure un prisma ok andiamo a leggere le risposte il poliedro non può essere altro che un prisma no perché può essere anche una piramide no il poliedro può essere un prisma ma potrebbe anche essere una piramide sicuramente sì né un prisma né una piramide no non può essere altro che una piramide no allora ricordo che la piramide è un poliedro individuato da una faccia poligonale chiamata base e avente un vertice quindi alla base possiamo avere un poligono in questo caso per semplicità creo un faccio una piramide costruisco una piramide a base quadrata il vertice V viene anche chiamato apice della piramide questi ovviamente sono gli spigoli queste sono ovviamente le facce della piramide diamo una breve definizione anche di prisma il prisma è un poliedro avente per facce due poligoni uguali che sono le basi quindi il prisma è formato da basi posti su piani paralleli le basi sono poste su piani paralleli e tanti parallelogrammi quindi facci laterali quanti sono i lati del poligono base quindi abbiamo dato anche delle definizioni di prisma e di piramide che possono essere utili per completare la traccia passiamo alla domanda 2 si considera questa espressione 1 fratto 1 su A più 1 su B provo a ingrandirlo un pochettino a quale delle seguenti espressioni è equivalente per ogni valore reale non nullo di A e B ecco provo a riscrivere meglio l'espressione che ci viene chiesta e dobbiamo dire che cosa è equivalente tra queste varie risposte con semplicissimi e rapidissimi passaggi vado a fare il minimo con il multiplo e ottengo A B e al numeratore ottengo A più B poi vado a fare il reciproco e quindi ottengo A B fratto A più B quindi questa risposta è veramente rapida e non vado nemmeno a leggere le altre risposte perché si può dare risposta in pochi secondi ok un quadrato non degenere soddisfa la seguente proprietà il numero reale A che rappresenta l'aria eccola qui è spesso in metri quadrati ovviamente cioè in metri è ovvio scusate in quadrati è ovvio potrebbe essere anche millimetri decimetri decametri quadrati è uguale al numero reale che rappresenta il perimetro ovviamente se l'aria espressa in metri quadrati è il perimetro in metri quale delle seguenti affermazioni è vera ragioniamoci l'aria è pari al perimetro quindi abbiamo che L quadro che è la formula che relaziona la superficie alla lunghezza del lato è uguale alla L quadro uguale a 4L ma dato che L è una grandezza positiva perché la lunghezza insomma è la distanza tra due vertici del segmento otteniamo che L deve essere 4 metri e di conseguenza l'aria deve essere 16 metri quadrati e se pensate alla formula del perimetro scriviamola così che è pari a 4 volte il lato se il lato è proprio 4 metri 4 per 4 16 metri e quindi abbiamo un'equivalenza tra l'aria ovviamente escludendo l'unità di misura abbiamo che l'aria è 16 e il perimetro è 16 siamo alla domanda successiva ci chiede una delle possibili definizioni di rettangolo sappiamo che il rettangolo ha i lati congruenti a 2 a 2 ed è un fa parte è un sottoinsieme dei parallelogrammi allora sappiamo che la diagonale del rettangolo le due diagonali sono congruenti e sono pari all'ipotenusa che è pari alla radice della somma quadratica dei due cateti del triangolo rettangolo che si viene a formare e quindi ha sicuramente le diagonali congruenti e le altre risposte leggiamole brevemente non ha è un parallelogramma con i lati opposti congruenti non basta perché non vengono menzionati gli angoli è un parallelogramma con gli angoli opposti congruenti non basta perché non vengono menzionati i lati è un parallelogramma con le diagonali che si incontrano nel loro punto medio sappiamo che anche il rombo le diagonali si incontrano nel punto medio quindi non basta per la definizione di rettangolo mentre il fatto che abbia le diagonali congruenti pari all'ipotenusa di questa figura che si viene a formare ovviamente è una possibile definizione di rettangolo senz'altro ok siamo arrivati all'ultima domanda se vi piace il video mettete un bel like e se ci saranno molte visualizzazioni andremo avanti fino a diciamo risolvere tutti gli esercizi dei concorsi STEM allora la definizione è questa l'uso sicuro è responsabile delle tecnologie innovative delle comunicazioni pratiche e precauzioni da osservare quando si usa internet per assicurarsi che le informazioni personali i dispositivi non siano compromessi a quale termine si riferisce in realtà la risposta che è questa la trovate anche in un video che ho feci precedentemente al concorso STEM cioè proprio nei video di preparazioni al concorso STEM ma ovviamente se si parla di pratiche e precauzioni quando si usa internet non può essere una metodologia didattica il flipped classroom non può essere non si parla di competenza digitale e nemmeno di e-learning la cyber security consiste nella difesa nel difendere computer per ora scrivo così per essere più rapido computer server dispositivi dispositivi mobili sistemi elettronici reti e dati da attacchi dannosi e quindi ovviamente possono essere compromesse sia le nostre informazioni personali che i dispositivi e quindi la cyber security poi si applica in realtà a molte categorie quali la sicurezza di rete quindi consiste nella difesa delle rete informatiche dalle azioni di malintenzionati quindi alla rete alla sicurezza delle applicazioni dei software alla sicurezza delle informazioni che viene menzionata qui e include tutti i processi e decisioni per la gestione e la protezione degli asset di dati quindi tutte le autorizzazioni ad esempio utilizzate dagli utenti per accedere a una rete e le procedure che determinano come e dove possono essere memorizzati o condivisi i dati ovviamente poi ci sarebbe da dire molto ma molto di più scrivo eccetera però secondo me già è molto aver risposto ai vari requisiti andando anche ad approfondire le varie risposte così insomma da non lasciare un contenuto solo mnemonico ma anche da darvi da consentirvi insomma la possibilità di comprendere e approfondire una minima parte ciò di cui abbiamo parlato con questo io vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona continuazione di giornata un caro saluto da Francesco Samani un caro saluto